E interviene, anzi torna, nella grande notte delle parole, una donna, ma che dico una donna, una sex symbol dei nostri tempi La dottoressa Babava, esposito vulgo gigante, mi scusi Babava, ma quando mi viene a dire il suo nome mi viene la Eve Mosha, e ciao Ciao Ivan, buonasera Come stai? Vedo che ci sono pistacchi tostati dalle tue parti Bene, bene, ma c'è il cammino al caldo Eh, io me li mangerei volentieri, sei due pistacchi tostati, ma si può? Sì, ogni tanto sì Ogni tanto si può Allora Dal tipo di dieta che uno fa, no? Allora, raccontiamo un attimo sta storia, cari amici dell'ascolto Volete una dieta che vi dà la possibilità di avere degli addominali scolpiti, senza fare la palestra, giusto? Giusto, giusto Non solo, ma il sedere brasiliano Il sedere brasiliano? Vi piace il sedere brasiliano, care donne, senza andare dal chirurgo? Vi piace una cosa del genere? E dovete contattare questa donna qui, che si chiama Barbara Esposito, vulgo gigante Che propone la natural diet, che cos'è la natural diet? Raccontacela un po', Barbara È una vita completamente naturale, in cui i pazienti mangiano tanto, non so, stanno male a fame E hanno la possibilità di perdere tanti chili in poco tempo e di modellare allo stesso tempo Sembra assurdo, ma è vero Hai migliaia di followers, di persone che ti seguono e che possono testimoniare proprio con le foto del before and after, quindi il prima e il dopo Esattamente sì, ne citiamo un po' sentiti all'inizio, quando ho iniziato ad adottare questo metodo E ora sono aumentati sempre di più Tanto è vero che su Instagram possono anche vedere il prima e il dopo, le varie testimonianze, so, che mangiano Non c'è nessuno che si lamenta, insomma Perché uno dovrebbe fare la natural diet e non un'altra dieta? Per esempio, facciamo proprio uno spottone Raccontami un attimo quali sono i vantaggi Sicuramente le persone vogliono un risultato immediato Immediato Questo sicuramente la mia dieta lo fa Ma immediato e costante nel tempo? Sì, assolutamente sì Anche perché comunque c'è una reeducazione alimentare Non è solo un percorso breve, nel senso che comunque io insegno alla persona a imparare, a mangiare Immagino che tu ovviamente abbia studiato e sia assolutamente, diciamo, possa essere un sostegno anche medico Per quelli che sono poi i tuoi pazienti, quindi che possono affidarsi a te, ci mancherebbe altro Assolutamente sì Parliamo di estetica, ma ovviamente il benessere è la base C'è un risultato straordinario di cui vai più fiera, per esempio? Vabbè, a parte i chili, nel senso, nell'immediato, tipo 7 chili in 7 giorni Oppure l'effetto proprio push-up del sedere, l'eliminazione di cellulite che può andare via in pochi giorni Questo è il lato B, ma sul lato A pure non possiamo operare e come funziona? No, anche per il lato A si può fare, per l'addome mettiamo lato C Per l'addome, per l'addome Sì, addominali scolpiti, va? Se uno volesse contattarti, è vero che ce li hai pure tu gli addominali scolpiti Ho davanti a me una tua foto senza sport, effetto natural diet Non sono amante dello sport, purtroppo Quindi pur non facendo sport, riesci ovviamente ad avere un fisico assolutamente invidiabile Per chi volesse contattarti, Barbara, come deve fare? Allora, io ho una piattaforma internet che è www.natural.svg.com Lì si possono prendere tutti i miei contatti Le persone mi possono contattare anche su WhatsApp Il mio numero è 392-3525-001 Vale, principalmente mi guardano su Instagram, quindi Barbara e BG Quindi andate su Instagram, fatevi un attimo, date un'occhiata Quindi constatate con i vostri occhi quello che è successo E potrebbe essere ovviamente anche interessante avvicinarsi a questo regime alimentare E ci mancherebbe altro Barbara, invece ce n'è uno che a parte me, diciamo, ti ha deluso Perché io ci avevo provato a dire Ah beh, mi hai deluso perché non l'hai mai fatta No, non l'ho mai fatta Dico ai nostri ascoltatori, non è che l'ho fatta e è andata male Cioè io proprio non avevo ancora, diciamo, in testa di poter seguire Perché immagino che sia anche Vedremo, come buon proposito ci sono io oppure no Vedremo, vedremo perché nel frattempo Qualche chiletto l'ho messo via lo stesso, diciamo Con un modo alternativo, diciamo Ho tolto una mezzo pane e pasta quasi Vabbè, però poi dopo forse Guarda, facciamo così, Barbara Nel momento in cui avrò bisogno anche degli addominali scolpiti Facciamo il piano B Va bene, ma c'è adatto, sono diete comunque personalizzate Certo, certo, certo Non è che sto così cassino No, ma figurati, io penso che la dieta sia qualcosa che hai nella testa Cioè se lo vuoi fare, decidi di farlo Assolutamente sì, è l'ingrediente principale E infatti quando te mi proponesti quella bellissima dieta Probabilmente non avevo in testa di poter cominciare un regime diverso Da quello che mi accompagnava allora Però voglio dire, sono tante le testimonianze che possono dire e affermare Nei fatti che Poi lo svolgerò anche te Va bene, sono la tua scommessa Barbara, ti auguro una buona serata e ti ringrazio Grazie mille, Ivan, un bacio forte, a presto A presto, Barbara, l'esposito, vulgo, gigante con noi Adesso ci fermiamo per un attimo Piccola pausa, una bellissima canzone La organizziamo tra qualche istante Tranquillo, vedo Gennaro che sta andando in panico Tranquillo, Gennaro Restate con noi perché abbiamo ancora tanti ospiti La grande notte delle parole Con Ivan Scudieri